benvenuti benvenuti dal vostro M finalmente con un nuovo video sul Giappone ma dall'Italia questa volta voglio parlarvi di un argomento che avevo trattato volutamente in maniera polemica nelle mie prime settimane di permanenza a Tokyo di quest'anno qui in alto trovate il video in questione ricordo anche a tutti se non l'avete già fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina faccio un piccolo preambolo che è duopo per chi non mi conosce fin da ragazzo sono stato attratto dal Giappone perché lo consideravo una meta marziana viste le differenze con la nostra società italiana come sapete ho documentato diversi viaggi e prima dello scoppio della pandemia di covid come vi ho detto ero proprio in Giappone dove tra le altre cose stavo studiando in una scuola di lingua giapponese questa volta voglio essere più specifico però con la mia esperienza in modo da darvi tutti i dettagli per valutare quanto mi è capitato ricordatevi è l'esperienza di un trentenne che lavora in ambito tecnico quindi con una cultura tecnica anche all'estero o con l'estero quindi comunque in ambito inglese via dicendo da molto tempo e che non è mai stato però una cima nei metodi di studio aggiungo che già da anni mi ero avvicinato al giapponese però da autodidatta e vivendo in provincia non ho mai fatto corsi preventivi su questa lingua ovviamente il tempo che uso per lavorare e produrre le puntate di world sound streaming per fantascientificast non è stato d'aiuto quindi non sono un letterato di 20 anni le cui capacità di studio e assimilazione di una lingua sono notevolmente superiori alle mie io qui mi arrendo quindi per piacere focalizzatevi su qua su questo perché lì era chiusa tutta la mia esperienza la prima grande differenza tra le nostre due culture sta proprio nel metodo di insegnamento in giappone lo studente è abituato ad andare a scuola per tot ore e a studiare in larga parte a memoria per altre tante ore quindi è un impegno notevole che si differenzia dalle mie esperienze di studio italiane dove spesso bastava una grande capacità di comprensione per venirne fuori e capire quindi tutta la lezione l'esempio quindi della mia scuola la shinwa academy di takadanobaba è preponderante la scuola è piena di studenti del vietnam e cina occupano l'80 per cento degli iscritti si parla di diverse centinaia di studenti per ogni turno di tre mesi di lezioni infatti qui le lezioni sono suddivise di tre mesi in tre mesi sei mesi sarebbe il ciclo completo ma vabbè adesso non entro nei dettagli già questo comunque ti fa capire che il metodo di apprendimento è focalizzato in larga parte per chi ha già una comprensione diciamo naturale di kanji e di ideogrammi quindi noi occidentali siamo un po tagliati fuori da questa scrittura perché siamo abituati alle nostre 26 letterine giusto così il quantitativo pertanto di nuovi vocaboli a te ignoti che ogni giorno ti si presenta davanti è come uno tsunami su una centrale nucleare devastante le professoresse sono disponibili ma dalle delle quattro che avevo solo una sapeva un po d'inglese quindi se non capivi una cosa o chiedevi ad un tuo compagno occidentale con cui più o meno riuscivi a relazionarti altrimenti rimanevi proprio nel nulla bisogna dirlo che comunque le professoresse facevano di tutto per cercare di farti capire ma non avevano il tempo materiale guardavano sempre l'ora e il loro programma perché dovevano rispettare la tabella di marcia è così dovevano essere veramente focalizzate sul punto anche yoshikawa sensei che era quella che parlava appunto inglese si era anche offerta di aiutarmi per un'ora qualche pomeriggio purtroppo non sono mai riuscito a sfruttare questa cosa per impegni altri impegni ma però il muro per me non era tanto la comprensione delle lezioni ma la memorizzazione dei vocaboli ricordare la scrittura e la pronuncia delle parole è stato per me il vero e grande ostacolo di questa lingua per quello per me serviva già tanta preparazione prima per memorizzare parole e scrittura anche senza sapere la grammatica anche perché diciamocelo il parlato giapponese è abbastanza forse sgrammaticato per quello che ho capito io ma purtroppo sono un neofita riguardo quindi ma lo stesso libro di testo che adesso vi mostro cioè il min noni ongo che è tra i più diffusi tra queste scuole non solo nella mia lo usano in tantissime scuole tanto che ho trovato anche la grammatica che la mia scuola non ha dato questa grammatica qui che è in italiano quindi è in italiano che riesce ad aiutare l'ho trovata su amazon giappone a circa 20 euro qua in italia si trova a prezzi molto più elevati ma ecco cosa ti danno appunto in queste in queste scuole allora abbiamo detto il libro di testo hai delle dispense giornaliere adesso ve le faccio anche vedere con tutti gli esercizi dispense giornaliere vedete qua con tutti gli esercizi ce ne sono tantissime quindi qui con tutte le correzioni in rosso perché ovviamente faccio schifo libro degli esercizi che è sempre del min noni ongo però è fotocopiato cioè praticamente fotocopiato a colori te lo danno così l'ultima l'ultima cosa che ti danno in dotazione oltre a un libro dove imparare i kana quindi ragana e katakana ti danno anche questo questo qui è per la comprensione dei kanji sono in ogni pagina più o meno sei kanji con tutte le varie paroline come potete vedere le varie parole sotto in tutta questa dispensa per tre mesi ci sono la bellezza di solo 222 kanji che loro pretendono tu possa memorizzare considerate che per leggere un giornale ci vogliono almeno 1500 kanji cioè il riconoscimento di questi i numeri di kanji quindi poi ritornando alla scuola ci sono i test continui e giornalieri della scrittura mentre ogni 35 giorni sulla grammatica sempre alla shinwa devo devo comunque spezzarli una lancia favore per l'unico dipendente dell'amministrazione che parla inglese si chiama ben e fa tantissime cose per aiutare gli studenti delle difficoltà più assurde della burocrazia giapponese quindi non gli voglio parlare male però più di una volta mi sono trovato a chiedergli delle cose da riportare quindi da chiedere alle insegnanti giapponesi ma non ho mai avuto risposta da lui né dalle insegnanti giapponesi al che mi viene il dubbio non gli abbia mai effettivamente parlato come non abbia mai nemmeno effettivamente parlato alla direzione del problema della sospensione del corso causa covid sì perché la cosa che non perdonerò mai a questa scuola non è tanto l'insegnamento ma come si siano comportati a causa del covid in un guarda la faccio breve perché non voglio andare oltre ma c'è stata a un certo punto una richiesta da parte del governo di chiudere le scuole pubbliche da parte delle prefetture e quindi hanno deciso la nostra scuola dopo qualche settimana di chiudere anche le lezioni rispetto alla nostra scuola che è comunque privata quindi totalmente privata e questo è avvenuto senza alcun preavviso un lunedì mattina siamo entrati in aula la professoressa parecchio impanicata ci ha dato dei fogli dire c'è il covid di qua e di là ci dispiace dobbiamo sospendere le lezioni è stato bello ciao ciao e poi noi siamo andati perché non avevano più intenzione di proseguire nelle lezioni infatti ho perso due settimane di corso e sono in tutto dieci giorni di insegnamento che però io ho pagato per un corso di tre mesi che dovevano essere insomma è un sesto del corso effettivo e insomma il corso è costato 180 mila yen quindi non tanto poco non è che sia buon mercato sebbene non siano prezzi comunque elevatissimi per essere un corso però dopo molte mie insistenze all'amministrazione non c'è stato nessun rimborso non c'è stato nessun voucher futuro anche da usare tra qualche anno eventualmente per completare questi dieci giorni o per avere uno sconto per ripetere i tre mesi di corso e alla fine non mi hanno fatto neanche fare delle lezioni online quindi nulla praticamente hanno chiuso si sono presi i soldi e sono andati via e sono rimasto molto deluso da questo mi hanno semplicemente dato qualche foglio fotocopiato fra l'altro preso da questa dispensa me l'hanno data anche in italiano è proprio avevano questo qui in italiano mi hanno dato quei quelle dieci lezioni che mancavano anche meno quindi va beh però altre scuole si hanno fatto come loro che hanno chiuso ma hanno offerto altri servizi online oppure altre hanno tenuto direttamente aperto perché nessuno le obbligava infatti tra febbraio e marzo in giappone l'unico obbligo veniva dalle scuole pubbliche quelle dovevano rimanere chiuse il resto anche le università potevano rimanere aperte un comportamento che a miei amici giapponesi è sembrato comunque strano questa loro scelta di non fare nulla e sì per un giapponese dire strano di un'attività giapponese insomma non è certo un complimento quindi va beh quello che so che in futuro sicuramente cercherò una scuola più terrata per studenti occidentali magari meno intensiva perché la mia capacità di apprendimento è probabilmente un esponenziale molto cauto quindi cioè con calma saliamo direi che con questo ho completato la mia esperienza potrei darvi dei consigli ma sinceramente tutti vi riempiono di consigli e quasi mai questi vengono poi presi in considerazione e ascoltati quindi questo è più che altro un mio video memento per il me del futuro ma sono lieto comunque di aver condiviso la mia esperienza con voi e spero vi possa essere ugualmente d'aiuto nella comprensione del magico mondo giapponese non dimenticatevi di commentare con le vostre opinioni o scuole consigliate che mi interesserebbero particolarmente ne sarei molto contento di sentire la vostra opinione nel frattempo però ci salutiamo e alla prossima ciao